Simone Raimondi, Marketing Mercedes-Benz Italia e anche Smart, siamo qui alla manifestazione ad Ece Farm per i Chart, perché Smart e Mercedes oggi sono qui? Siamo qui perché abbiamo intenzione di ricavare dai talenti di questi ragazzi alcune idee ed esplorare le grandi potenzialità che il mondo del digital può offrire ad un marchio come Smart soprattutto in relazione ai nuovi lanci che sono previsti per la fine dell'anno quindi esplorare le dinamiche di vendita ed esplorare le potenzialità del digital e dei canali di vendita digitali Quale miglior platea di talenti per mettere a fuoco alcune idee e raccogliere da un pubblico giovanile perché non dimentichiamoci che Smart è un marchio di avanguardia, di status symbol ma è un marchio molto giovane, è un marchio molto moderno, è un marchio che parla ai giovani quindi dai giovani vogliamo avere delle idee e sondare gli spazi digitali Cosa vi aspettate che succeda domani al termine di quest'ora? Cosa vi aspettate come risultato? Francamente essendo un contesto decisamente non convenzionale è difficile dire cosa ci aspettiamo in realtà vorremmo essere davvero sorpresi da idee, prospettive, sistemi quindi tutto quello che può aiutarci a riflettere su nuove tendenze di mercato nuovi spazi di vendita e di posizionamento del marchio come appunto sul web Grazie mille, buona giornata Grazie a voi Grazie a voi